Sono qui in studio con il nostro ospite, vi avevo detto che è una cioli, una cioli che appartiene all'etnia, al gruppo etnico che abbiamo conosciuto proprio questo pomeriggio su Pili Pili. Ecco, si chiama Francesco Castoro, Francesco Caribussana. Posso parlarle in accioli? Non troppo, mi convienevoli, va bene. Un attimo, solo che c'è un problema tecnico che non avevo acceso un out, il tuo out, e quindi non hanno sentito la tua voce. Francesco, benvenuto nella puntata di Pili Pili di questo pomeriggio e insomma, coppango, coppe, itienining, a foio mate, a foio mate, ecco per chi ci sta ascoltando questo è il saluto in accioli. Ovviamente vi ho detto che io sono l'uo e vi ho anche spiegato che l'uo e accioli sono cugini, possiamo dire così. Ecco, Francesco lavora in Uganda, in questo ospedale che si chiama... Dr. Ambrosoli Memorial Hospital. Dr. Ambrosoli Memorial Hospital. Parlaci di te, io ti do del tu e anche perché siamo... Io, 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 no, mi, no. Abbiamo 21 anni tutti e due, possiamo darci del tu tranquillamente. Benissimo, guarda, è un piacere, è un piacere enorme. Parlaci della tua partenza dall'Italia per andare in Uganda, ma quanti anni fa è questo? La mia prima partenza per l'Uganda è del 1991, quindi più di vent'anni fa. Più di vent'anni fa. E ho trascorso i primi cinque anni dal 91 al 95 in Uganda. Sì, proprio a... non a Callongo, ma nella capitale. Ero a Campala, sì. Anche se poi per motivi organizzativi di lavoro mi spostavo, soprattutto verso il Caramoggia. Sì. Ma la mia sede di lavoro era a Campala. Benissimo, e dopo sei rientrato in Italia e poi sei ripartito per l'Uganda. Perché questo richiamo di tornare? Hai sofferto anche tu di mal d'Africa? Sono affetto da Baralda. Il mal d'Africa è una patologia inguaribile. Benissimo, infatti sei l'unico che può spiegare questa malattia, perché a me chiedono, fanno delle domande tipo Ma tu soffri del mal d'Africa? Ma... beh no. Io più che mal d'Africa soffro della nostalgia, perché è sempre casa e sono nata lì, la famiglia è lì. Però per te, dopo un tot di anni, poi decidi di mollare tutto e ritornare ancora lì, ci sarà un motivo. Eh sì, perché poi quando tu sposi la causa africana, quando tu vivi a stretto contatto con loro, quella diventa la tua gente. Calongo diventa casa tua. Per cui io ho lo stesso male che hai tu. La nostalgia dell'Africa. Io non vedo l'ora di tornare giù. Fra una settimana, grazie a Dio sarò giù e potrò dire che finalmente sono tornato a casa. Parlaci dell'ospedale Dr. Ambrosoli Memorial Hospital. Beh, l'ospedale diciamo è una realtà, è un ospedale missionario innanzitutto, quindi praticamente la nostra prima priorità è quella di privilegiare l'accesso alla salute, anche perché ho visto, se non sbaglio, il vostro motto è salvare l'Africa con gli africani. Sì, è il motto. Le stesse parole di Daniele Comboni. Esatto, sì. E noi abbiamo il motto proprio, cerchiamo di fare la nostra ragione di vita, questo salvare l'Africa con gli africani. Infatti in ospedale su un totale di oltre 200 dipendenti, fra personale sanitario, medico, paramedico, personale tecnico, gli italiani, gli stranieri siamo solo in tre. Addirittura? Sì, sì, siamo solo in tre. Quindi diciamo è un ospedale che ormai in pratica il trasferimento nella gestione africana è quasi... Che poi, un attimo solo che ti corrego, stranieri, non esiste proprio. Non esiste proprio. Lì penso che sei già, fai già parte di loro. Quindi sei laccioli. Piuttosto ti chiamano laccioli bianco, come mi hai detto dietro le quinte, ma non straniero. È vero. Io dico sempre che sono, quando qualche volta mi chiedono, dico no, guarda, io sono bianco perché lavorando in un ospedale dove il reparto più attivo, il reparto di maternità, capita di vedere i bambini appena nati. E i bambini appena nati hanno lo stesso colore di noi bianchi, non nascono di sicuro con la pelle scura. Nascono bianchi, poi chiaramente il fattore genetico della pigmentazione, dopo qualche giorno, qualche settimana, cominciano ad acquisire il colore scuro. Io dico che sono nato a Cioly e purtroppo la mia pigmentazione non ha funzionato. Non è avvenuto. E quindi ecco perché sono rimasto col colore infantile. Ascolta, Francesco, tu di che cosa ti occupi in questo ospedale? Dunque io nell'ospedale mi occupo, praticamente sono direttore dell'ufficio di contabilità, quello che in gergo si definisce il chief accountant, quindi lavoro a stretto contatto con l'amministratore per la gestione finanziaria e economica dell'ospedale. e poi ho anche il ruolo di trade union, diremmo così, con la fondazione Ambrosoli, che opera qui in Italia e praticamente io sono il rappresentante in loco per coordinare le attività di supporto della fondazione nei confronti dell'ospedale. Beh, ricordiamo anche che ci sono se chiunque vuole fare una donazione online a questo ospedale c'è sempre un modo di farlo tramite, penso se non mi sbaglio, il sito internet. Esatto. E lì si può trovare tutta l'informazione che serve. Esatto, c'è il sito internet della fondazione Ambrosoli per cui uno può attingere tutte le informazioni, tutta la documentazione, soddisfare anche eventuali curiosità, andare a spulciare fra le diverse immagini che pubblicamente vengono poste sul sito e per i più volenterosi, c'è anche, visto che siamo in tempo di dichiarazione dei redditi, c'è anche la possibilità, sempre sul sito, trovate le indicazioni per devolvere il 5 per mille a favore della fondazione Ambrosoli. Ascolta, infatti, ripeti? Ripeto, la fondazione Ambrosoli è uno dei principali supporters dell'ospedale di Calongo. Sì, parlando di questo ospedale Ambrosoli, oggi hai fatto una visita anche al Museo Africano, qui, proprio qui sotto lo studio di Affiradio, e ricordo anche ai nostri ascoltatori che c'è questa mostra di Dottora Ambrosoli che è al Museo Africano e va avanti fino a ottobre. Le foto che hai visto, erano foto che era una sorpresa? Hai visto qualcosa che ti ha proprio lasciato o ti ha portato dei ricordi? Cosa spieghi della mostra che abbiamo dell'ospedale? La mostra che ho avuto la gioia di visitare, perché avevo già visto il reportage fotografico, l'album, però un conto, un album cartaceo, un conto è vederla di persona. Mi ha riportato un po' le fotografie attuali, mi ha riportato a casa perché chiaramente le fotografie riferite ai nostri giorni è la vita di tutti i giorni, quindi ho rivisto amici, collaboratori, personale dell'ospedale, pazienti, quindi un po' mi ha riportato a casa. E poi mi ha fatto fare un escurso storico di questo ospedale che ormai ha più di 50 anni di vita. Non dimentichiamo che padre Ambrosoli quando arrivò nel 1955-56 trovò poco più che un dispensario. E poi grazie alla tenacia e alla preveggenza di padre Ambrosoli è nata una struttura che oggi conta più di 300 posti letto e ha un vaccino di utenza che è difficilmente definibile perché chiaramente il raggio di utenza è molto vasto, però direi che siamo fra le 400.000 e le 500.000 unità che noi serviamo da un punto di vista sanitario. L'ospedale più vicino l'abbiamo a 75 km circa. Che sarebbe il... Kitgum. Kitgum. Ah, benissimo. Perché Calongo, ricordiamo che da che parte si trova, proprio in Uganda, geograficamente parlando. Calongo, siamo nella zona accioli, nella parte nord-est degli accioli, quindi diciamo che abbiamo i confini al nord, andiamo verso il distretto di Kitgum, poi il confine con il Sudan meridionale, invece sul lato est confiniamo con la parte del Karamogia, la zona della Buor, tipo Abim, per chi dovesse avere dei ricordi Abim, Morulem, ecco, e poi si sconfina nel Karamogia. Bene, torniamo, ascoltiamo... Ti piace la musica, vero? Certo. Ecco, allora, essendo accioli, Disclosure, questo è un gruppo che insieme a Aluna George ci cantano white noise. Do you know that noise had color? Yes. White. White color. Disclosure featuring Aluna George, here on our radio, ladies and gentlemen, white noise. I thought that also black noise existed, but Disclosure tells us it doesn't. Le 14 e 58 minuti, amici, sempre in compagnia di Malle e Somondi, anche con Francesco Castoro, che appunto ci ha parlato di questo ospedale, Fondazione Dr. Ambrosoli, che si trova in Uganda, a Calongo, per essere precise. Ascolta, Francesco, l'ultima cosa, prima di chiudere, anche perché il tempo è quello che abbiamo, è a disposizione, e non so se c'è qualcosa che volevi far sapere a chi ci sta ascoltando per quanto riguarda questo ospedale, poi ovviamente eventuali contatti dove si possono trovare l'informazione per quanto riguarda l'ospedale stesso. Sì, beh, l'unica cosa che preme far sapere è che l'ospedale praticamente vive soprattutto grazie alla generosità dei nostri donatori, dei nostri supporters. È un momento abbastanza impegnativo perché la situazione internazionale penalizza la nostra realtà occidentale, ma soprattutto penalizza le realtà ancora estremamente povere del nord Uganda. Per coloro che volessero maggiori informazioni, volessero entrare in contatto con la Fondazione Ambrosoli, che fa da tramite appunto con il nostro ospedale, c'è la possibilità di visitare il sito www.fondazioneambrosoli.it e sempre su Facebook per gli navigatori di Facebook per le giovani. Sì, ormai adesso Facebook non sono giovani. Stavo dicendo, per le giovani generazioni come la nostra potete tranquillamente trovare il sito Fondazione Ambrosoli, la pagina ufficiale della Fondazione Ambrosoli via Ippolito Nievo Milano, dove potrete appunto approfondire, entrare in contatto con la nostra realtà e interpellateci per qualsiasi domanda, qualsiasi quesito, qualsiasi curiosità. saremo ben felici di rispondere. Grazie mille. Com'è che si dice, come si dice grazie in accioli? A fuoio. A fuoio, Matteo. A fuoio, bene. Ladies and gentlemen, for more information about da Dr. Ambrosoli Hospital in Calongo, you can always visit www.fondazioneambrosoli.it or join the Facebook group of the hospital. Thank you so much, Francesco, and thank you for the good work you're doing for our people down there. Thank you so much, I wish you well. Thank you, you're welcome. Amici, questo è tutto, un saluto a tutti, un saluto anche a coloro che ci ascoltano in replica alle 22 per quanto riguarda la radio e alle 21 per quanto riguarda Digital Terrestre canale 271. Grazie mille a Francesco e grazie mille un abbraccio al nostro Nicola Fasoli in regia. Ciao a tutti, a domani, same time, same place, come dico sempre. Pili 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 Many Colors One People Every Radio